Ciao a tutti, ciao a tutti i fedeli follower della Fairy Family Film benvenuti in questa nuova recensione, recensione del film Pinocchio di Guillermo del Toro uscito su Netflix proprio questa mattina mi vedete un po' provato in effetti sono diciamo in convalescenza quindi ne ho approfittato insomma per stare al calduccio e guardarmi il film questa mattina recensione divisa come sempre in due parti la prima senza spoiler, la seconda invece con degli spoiler proprio avvertimento allora senza spoiler devo dire che il film mi è piaciuto mi è piaciuto, è un buon film è uno dei rari film di Pinocchio venuti bene perché diciamo che Pinocchio penso sia uno dei racconti di cui sono stati rarati più film in assoluto perché chiunque, chiunque ha fatto un film su Pinocchio solamente quest'anno qua ne escono 47 l'anno scorso ne sono usciti 53 quindi insomma c'è sempre almeno un film di Pinocchio all'anno ed è raro che catturino è raro che catturino perché solitamente insomma è sempre un po' la stessa storia questo film qua si diciamo si allontana, si distacca un po' da questo trend quindi da questa scarsa capacità di innovare e convincere il pubblico si distacca però resta diciamo c'è comunque qualche perplessità qua e là allora perché convince? beh intanto perché non ha noia è un film che cerca la via dell'originalità non è diciamo una copia in colla del racconto originale di Collodi ma inserisce nuovi spunti molto buoni, molto soddisfacenti crea un contesto storico e geografico molto convincente, molto convincente e diverso rispetto a quello del racconto originale il contesto che chiaramente resta quello italiano perché sì è venuto peraltro anche molto bene mentre guardavo questo film diretto da Guillermo del Toro regista messicano e la messicanità di Del Toro si vede pensavo, facevo un confronto con un altro film d'animazione prodotto comunque da una casa d'animazione americana come dire, ambientata in Italia che però faceva pena, ovvero Luca Luca aveva questa ambientazione in questo contesto italiano che era molto stereotipato e molto poco convincente ecco, nel caso di Pinocchio, di Del Toro questo non avviene abbiamo un contesto storico, geografico, popolare, culturale molto molto ben caratterizzato e anche l'ho trovato parecchio convincente quindi complimenti a Del Toro per questo punto per questo elemento i personaggi funzionano la trama ti prende ci sono colpi di scena al punto giù tutto quanto scorre bene il film dura quasi due ore ma è un film di sostanza nel senso che le cose avvengono ci si annoia e non è un film portato avanti tramite gag nel senso che non è un film che fa ridere questo l'ho apprezzato molto certo ci sono dei momenti divertenti ci sono alcune battute ma non è un film che vuole far ridere con gag insulse non è un film che va avanti a canzoni quindi diciamo ci sono anche qui delle canzoni peraltro spesso anche convincenti orecchiabili, piacevoli da vedere ma come dire le canzoni che servono a portare avanti la trama a creare un momento artistico forte importante per caratterizzare e sviluppare i personaggi ecco quindi diciamo i due grandi limiti dell'animazione contemporanea quindi questo ricorso ossessivo alla gag comica al sollievo comico e canzoni su canzoni su canzoni ecco questi qua sono errori problemi che non appartengono a questo film quali sono diciamo qual è la perplessità che ho? ecco l'unica perplessità che ho è che non capisco come mai questo film quasi chiama Pinocchio perché in realtà del Pinocchio originale del racconto originale prende solamente un piccolo spunto poi per fare in realtà tutt'altro modificando parecchie cose però per parlare di questo andiamo nella parte spoilerosa allora per fare qualche spoiler ecco parto proprio da qui come mai non è Pinocchio? beh perché si va a cambiare proprio il nucleo pulsante cioè nel racconto originale di Collodi hai Pinocchio questo burattino fatto da Geppetto che è da solo esprime il desiderio che diventi un bambino vero questo prende vita eccetera eccetera e tutta quanta la storia quindi diciamo che il contesto generale il nucleo generale del racconto di Collodi che è un racconto dalla impostazione fortemente educativa morale e pedagogica è proprio diciamo quello di fare quasi un'allegoria della crescita quindi è la figura paterna Geppetto che è una figura paterna sana che ha questo burattino e ogni bambino nel momento insomma della nascita del primo sviluppo è fondamentalmente un burattino perché il genitore può fargli fare pressoché tutto quello che desidera ma lo scopo del genitore il desiderio del genitore di Geppetto in questo caso è emancipare il burattino bambino da se stesso in modo tale che possa reggersi sulle sue gambe e anche allontanarsi e anche allontanarsi da lui ecco nel Pinocchio di Del Toro questo viene praticamente ribaltato nel senso che Geppetto costruisce questo burattino come un sollievo per se stesso perché ha perso suo figlio ha perso Carlo e quindi vuole rimpiazzarlo in qualche modo con diciamo una un'idea un modello quasi uno spunto quasi frankensteiniano verrebbe da dire quindi in spregio le leggi della natura lottando contro contro la morte del figlio prediletto e Pinocchio deve soddisfare il padre non può mai andarsene dal padre deve restare con lui e dargli gioia per tutta per tutta la vita ed è quello appunto che Pinocchio fa con alcuni spunti anche abbastanza macabri perché essendo un burattino non invecchiando mai nel corso del film poi vediamo Pinocchio seppellire il padre Geppetto tutti quanti i suoi amici il grillo parlante la scimmia spazzatura eccetera eccetera quindi diciamo c'è proprio questo ribaltamento qua questo ribaltamento qua condito anche di diversi momentomori e la cultura della morte tipicamente messicana o degli spunti che del toro ha inserito rispetto al racconto originale ecco però c'è questo ribaltamento che mi spinge a chiedermi ma magari cambiare un po' contesto cambiare proprio così l'idea di base e invece di chiamarlo Pinocchio chiamarlo con un altro nome avrebbe forse giovato un po' di più all'originalità del racconto mi rendo conto che se lo chiami Pinocchio a livello di marketing funziona molto meglio però ecco l'unico punto che posso fare al finito del toro per il resto funziona tutto ecco i personaggi nuovi funzionano molto bene volpe al posto di mangiafuoco va bene ci sta benissimo tutto il rapporto il triangolo che si va a creare volpe spazzatura e Pinocchio funziona molto bene ci sono delle belle scene anche lì sono forse tre momenti comici meglio meglio riusciti ma al tempo stesso c'è chiaramente tutto il lato drammatico nel rapporto insomma tra questo personaggio manipolatore volpe e tutti gli altri il diciamo contesto storico legato al fascismo e alla seconda guerra mondiale va molto bene va molto bene quindi il potestà del paese quindi la presenza di Mussolini del duce che viene spesso citato chiamato in ballo e che compare anche alla fine quella diciamo è la parte più comica è sicuramente ben fatta di tutto quanto il film ed è insomma questo Mussolini questo pappacioccone che arriva fra tutte quante le sue facce le sue mossette classiche è venuto veramente molto molto bene ha fatto un po' riflettere insomma l'avversione comunque per i totalitarismi e il fascismo in particolare di Del Toro che era emerso anche nei suoi film originari penso per esempio al labirinto del fauno e cose di questo tipo in quel caso ovviamente in ambito spagnolo non italiano però insomma l'idea di base resta sempre quella quindi insomma bene tutte queste cose qua funzionano anche l'introduzione diciamo al posto della fata turchina la presenza della dea delle due divinità insomma la divinità angelica con le ale che compare a dare vita a Pinocchio e il suo corrispettivo suo sorella la dea della morte questa sfinge che si trova nel sottosuolo con questi con questi conigli becchini anche quello insomma funziona molto bene ed è uno di quei riferimenti alla morte uno di Memento Mori che il messicano del toro messi con la forte cultura della morte di Dello Sumertos eccetera eccetera ha inserito che funzionano molto bene ecco tutte cose che non c'entrano col Pinocchio di Collodi ma che in questo film qua funzionano se invece di Pinocchio avessero chiamato non lo so Panocchio o qualcos'altro avrebbe funzionato comunque come film ecco il contesto il legame con il racconto originale non è essenziale per capire e godere di questo film ultima cosa che posso dire riguarda l'animazione io ho un po' un debole per lo stop motion e trovo che sia una tecnica artisticamente molto pregevole questo film qua diciamo è un'altra conferma per cui mi riguarda fisicamente splendido molto molto bello molto ben animato i personaggi stessi gli scenari le location tutto quanto è una gioia una gioia proprio per gli occhi ci sono anche alcuni cioè si vede che del toro è come dire ha un gusto un po' creepy è partito anche dall'horror comunque sempre dei gusti un po' horror perché ci sono alcuni personaggi spessi nel regno della morte che sono anche parecchi inquietanti a volte anche forse un po' bartoniani per quanto sono due registi che hanno delle nette difense tra di loro comunque ecco per ricapitolare un film che mi ha che mi ha convinto sicuramente ecco un film che potrete guardare con profitto a Natale o uno dei fini di settimana che ci separano dal Natale insieme a tutta quanta la famiglia vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto iscrivervi al canale della Fairy Family Film per cercare di festeggiare anche noi il Natale con qualche iscritto in più noi ci vediamo molto presto molto presto con altri video della Fairy Family Film ciao a tutti ciao a tutti